La programmazione di Fano TV comincia tutte le mattine alle 7 in diretta con l'occhiata ai giornali che tra poco daremo insieme al nostro touchscreen. Abbiamo selezionato ancora oggi per voi le pagine più interessanti dal Corriere Adriatico del Resto del Carlino. L'informazione comincia alle 7 del mattino anche con il Santo e le previsioni del tempo. Oggi è San Luigi Maria Grignon di Monfort, qui il cartello ci indica San Valerio di Milano, ma io mi soffermerei un attimo su San Luigi che è stato un sacerdote francese che ha scritto anche sulla vera devozione a Maria. Il sole è sorto alle 6.05 e tramonterà alle 20.11. Italia spaccata in due, acquazzoni e temporali al centro nord nei prossimi giorni, ce ne siamo accorti già da ieri perlomeno qua nella nostra regione, le marche con piogge abbondanti. Invece al sud caldo africano, il tempo previsto su trebimeteo.com, questa è l'immagine delle marche con la pioggia in particolare. Anche se la costa pesarese e fanese sarà esclusa in questa mattinata, il resto sarà tutta pioggia. Il pomeriggio ancora piogge che continueranno, ma anche se un po' più deboli sempre nel pesarese e nel fanese, la sera invece migliore. Andiamo a vedere velocemente la giornata di giovedì. La giornata di giovedì si presenta in questo modo qua. Eccolo qua, mattinata, poi pomeriggio e sera. E adesso andiamo a leggere i giornali. In apertura sul Corriere Adriatico di Pesaro, ex carcere la rinascita. Un annuncio che è stato fatto in esclusiva, in anteprima, proprio sul nostro canale, su Fano TV. Lue di sera Matteo Ricci, il sindaco di Pesaro, è stato ospite di Primo Cittadino. Accordo tra comune e provincia per fare una nuova scuola, appunto dove prima c'era l'ex carcere. Una nuova scuola superiore a indirizzo creativo. Ricci dice dalle celle di riformatorio ad aule per studenti. Forte valenza simbolica. A centropagine invece lo street food sbarca al porto, non solo De Orse e Gazebo. Poi le varianti qui di spalla, che adesso fanno paura, anche qui, piattaforma, con tutti i dati. Questa è la novità del Ministero. Poi c'è il processo per la morte di quel bambino di sette anni di Cagli, qualche anno fa, morto per lotite. Al processo, ha parlato la zia, mai visitato dal suo medico, dice sicurezza, patto per sorvegliare aziende e negozi. E poi, sempre da Pesaro, una padre che schiavizza la figlia ragazzina e finisce a processo. Poi nel regno del Rossini, lo scrigno del piccolo, la sala della Repubblica cambierà totalmente. I lavori potranno partire subito dopo il ROF. L'antico Tempio della Fortuna fiora a Fano da recenti scarvi. Il caleno di Pesaro invece. In arrivo 53 mila dosi. La fotonotizia, vaccini, l'annuncio di Saltamartini. Ma il ristò è ancora chiuso. Tavolini fuori, in regola solo il 25%. La maggioranza dei locali non ha chiesto il permesso. Appello dell'assessore ai titolari. Fatelo, siete ancora in tempo. Musei si riparte, ingresso libero. Il prossimo fine settimana. A Pesaro una tre giorni di benvenuto. Poi sopra i Rossini un altro teatro da 140 posti. Verrà ricavato, come abbiamo detto, nella sala della Repubblica. E poi otite fatale, curata con l'omeopatia. Così è morto il mio Francesco. La testimonianza della zia. Sempre in tribunale. Un processo contro uno studente che poi è stato assolto. Accendino davanti, aveva acceso un accendino davanti al volto del professore. Accadde al Benelli. E poi tornano le visite, case di riposo ripristinate, le stanze degli abbracci. E nella calata Caio Duilio di Pesaro, Porto Aria Nuova, il comune rilancia con il bando per lo street food. Ecco dove si trovava il Tempio della Fortuna. Fano l'annuncio della sovrintendenza. E poi il calcio. Il Fano si affida a Urso. Visse che gioia la salvezza. I contagi. I contagi sono in diminuzione nelle Marche. Per fortuna anche i reparti si stanno piano piano lentamente svuotando. Ma lentamente. C'è adesso però un fatto sul quale il settore che si occupa dell'epidemia nelle Marche sta tenendo un po' sotto controllo. Sono due fasce di età. Quella dagli 11 ai 13 anni e quella dai 3 ai 5 anni perché con il ritorno a scuola si è visto che stanno aumentando i contagi. Allora, a distanza da 3 settimane da rientro in classe è stato registrato un rimbalzo nei contagi soprattutto nella fascia d'età tra gli 11 e 13 anni. Cioè gli studenti che frequentano le scuole medie e quella tra i 3 e i 5 anni relativa alle scuole di infanzia. È la prima volta che si nota un sensibile aumento dei casi anche rispetto alla settimana precedente e che viene tenuto sotto stretto motoraggio così come i contagio all'interno dei comuni. Poi si parla della novità del Ministero. Il Ministero che sta attivando in queste ore una piattaforma nazionale con le analisi delle varianti attraverso i dati che arrivano quotidianamente dalle regioni. Consentirà di tenere sotto controllo tutte le mutazioni del virus in maniera puntuale e costantemente aggiornata. Ed è proprio sulle varianti che il Corriere a pagina 3 fa l'intervista, realizza un'intervista con il professor Stefano Menzo che è direttore del laboratorio di virologia dell'ospedale Riuniti di Torrette di Ancona. La variante indiana qui nelle Marche ancora non è stata rilevata, dice. Per il momento in generale in Italia si sono verificati sporadici casi che speriamo non si, che non ricapitino. Intanto invece la variante inglese è potuta dilagare in tutto lo stivale, in tutta Italia e dice Menzo è l'unica delle varianti che ha preso veramente piede. Poi c'è anche quella brasiliana che si è ricavata una nicchia invece qui nelle Marche, in particolare nella provincia di Peso Urbino dove si registra una percentuale consistente nel tempo. E poi sempre da questa intervista di Martina Marinangeli sulla variante inglese, anzi sulla variante indiana, dice rispondono ai vaccini. Lui dice non si sa ancora perché non c'è stato modo di fare sperimentazioni. Chi l'ha isolato potrebbe fare adesso delle verifiche in vitro. Mentre alla domanda sarà necessario aggiustare i vaccini per renderli efficaci contro queste nuove varianti, che la risposta di Menzo è sì, il vaccino si può fare a tavolino in pochi giorni, il problema poi è riprogrammare però tutta la produzione, che è un percorso invece un po' più lento. Ma penso che con queste nuove tecnologie si possa andare abbastanza in fretta. Comunque prima di farlo stanno tutti a guardare come si evolve la situazione, perché nessuno investe dei soldi se poi le varianti dopo un mese sono già praticamente cambiate. E cosa dobbiamo aspettare? Cosa ci dobbiamo aspettare? La quarta ondata di questa pandemia? La risposta è non proprio un'ondata. Ci sarà qualche piccolo segnale di ripresa e si dovranno reintrodurre delle misure restrittive. Ma il resto del calino invece sulla pagina nazionale, a proposito della variante indiana che sta facendo preoccupare non poco, l'Europa scrive ha paura, gli scienziati il vaccino però funziona, due sono le mutazioni individuate e per proteggersi bastano ancora mascherine, igiene e distanzamento. A parlare è anche l'infettivologo Matteo Bassetti che dice le varianti Covid non hanno ridotto la forza dei vaccini, evitiamo di fare terrorismo mediatico, si rischia di gridare al lupo al lupo senza che la gente sia in grado di capire. Ora, come dobbiamo proteggerci? Questo credo sia fondamentale perché il resto ovviamente ci devono pensare gli esperti, i virologi sono loro che devono lavorarci. I pessimisti potrebbero pensare che le brutte sorprese non finiscono mai, invece possiamo riprenderci in qualche modo la nostra vita, la produttività, i consumi, ricominciare a socializzare, anche a divertirci a patto di rispettare poche semplici regole, prevenire gli assembramenti, cambiare l'aria spesso negli ambienti chiusi, coprire bocca e naso. Chi lavora a contatto diretto con il pubblico, come le cassiere dei supermercati o gli esercenti nei bar, protegga anche gli occhi con visiere o schermi di prexiglass. Dispositivi quali l'ozono e gli ultravioletti contribuiscono invece ad abbattere la carica virale. In attesa degli sviluppi, il virologo Maga ribadisce anche che le precauzioni fin qui adottate, cioè le mascherine, il distanziamento e l'igiene, sono sufficienti a proteggerci anche dai ceppi più aggressivi e meno noti. Poi, se tra i marchigiani che ci guardano ogni mattina in questo momento ci sono delle persone che sono state in India negli ultimi 14 giorni, nelle ultime due settimane, qualcuno è stato pure a fare il bagno nel gange, ma adesso la sta scontando su al nord Italia, se c'è qualcuno che è andato in India nell'ultime due settimane, sappia che è bene, anzi direi che moralmente è un obbligo, andare a farsi il tampone e vedere se è tutto a posto. Questo è l'invito che fa il giornale e che noi rifacciamo attraverso la televisione e la rassegna stampa. Un'estate tra lezioni e corsi, la scuola e i supplementari, ma solo su base volontaria. Praticamente si potrà andare a scuola anche nei mesi estivi, quindi giugno, luglio e agosto. Le attività proseguiranno, ma su base volontaria, quindi solo se uno lo vuole fare anche in questi mesi che ho appena detto. Ogni istituto di ordine grado delle Marche potrà infatti partecipare a dei bandi emanati con un proprio progetto per accedere a delle risorse che sono in media di 18 mila euro per singola scuola. Un modo per far recuperare agli studenti la socialità e gli aspetti formativi che si sono persi tra gli stop and go degli ultimi due anni, condizionati dalla pandemia. Mentre, sempre restando in ambito scolastico, gli impianti di sanificazione stanziati a altri 3 milioni, la Regione ha approvato la delibera destinata agli istituti scolastici. La cronaca, i processi, i processi. Se portate il bimbo in ospedale diventa sordo. Questo è un virgolettato che è attribuito al dottor Mecozzi, omeopata di Pesero, qui in un'immagine del 2017. Ottite curata con l'omeopatia, la zia del piccolo Francesco riporta in lacrime le frasi che l'imputato, il dottor Mecozzi, avrebbe detto ai parenti. Sono le parole che avrebbe detto ai genitori del piccolo Francesco, il bambino di 7 anni di Cagli, è morto il 27 maggio del 2017, per un'ottite bilaterale non curata, se non con rimedi omeopatici, prescritti appunto dal dottor Mecozzi. A raccontare tutto questo è stato ieri in tribunale ad Ancona, la zia del bambino, Aurora Olivieri, la sorella della mamma di Francesco. Le assurde parole. Sta male perché gli avete fatto tutti quei vaccini? La febbre alta? Beh, vuol dire che allora reagisce. Mentre è stato assolto un ex alunno per il video con l'Accendino, accadde ai danni di un professore nel febbraio del 2018 in una classe del Benelli a Pesaro. A Fano invece botte e lavoro. Una ragazza cinese accuse il padre, una quindicenne denuncia il genitore per maltrattamenti. La ragazzina, che oggi ha 17 anni, a settembre diventerà però maggiorenne, dice mi costringeva a trascurare la scuola per restare nel negozio. Se mi ribellavo però erano guai. E a trovare la forza appunto di ribellarsi e di fuggire quando aveva soltanto 15 anni, spinta dall'amore per la scuola, l'unica opportunità per lei di una vita diversa, nuova, smarcata da una mentalità che la faceva sentire oppressa, umiliata, sminuita, è appunto questa ragazzina di 15 anni che adesso ne ha quasi 18. A 14 anni, racconta Elisabetta Rossi, è scattata la prima fuga da casa, è andata dagli amici, poi costretta a ritornare subito in famiglia, ha chiamato il telefono azzurro, insomma qualche tempo, qualche mese poi è scappata di nuovo col treno da Fano fino a Forlì dove si è presentata dai carabinieri e ha denunciato il padre, poi ha trovato sostegno e accoglienza in una comunità protetta. Mentre da Colli al Metauro, siamo a Calcinelli, mandò in fumo 5 scuolabus, l'autista parcheggia, l'uomo confessò di averlo fatto per vendetta nei confronti della ditta che lo aveva licenziato, aveva piccato il fuoco all'interno del capannone di Calcinelli dove erano parcheggiati questi 5 autobus, 5 in fumo e danneggiandone altri 8, ha patteggiato due anni di reclusione, è successo la notte del 20 maggio 2019. A San Costanzo invece infortunio all'agriturismo, indagano i carabinieri, la moglie del titolare dice non sappiamo cosa sia successo, nessuno l'ha visto cadere, il 54enne ferito resta in grave condizioni. Sono le condizioni di un 54enne tuttofare dell'agriturismo San Martino di San Costanzo, l'uomo è stato trovato l'altro ieri dal titolare dell'esercizio in stato di incoscienza a terra senza un'apparente ragione, racconta la moglie del titolare, dice non sappiamo cosa è successo. Mentre da Pesero, ex carcere, la rinascita dalle vecchie celle, le aule per gli studenti, il sindaco Ricci annuncia il progetto di una nuova scuola superiore, un istituto legato alla creatività e alle arti, la provincia è d'accordo, ieri l'annuncio del sindaco Matteo Ricci, l'ex carcere minorile diventerà dunque una scuola della creatività. Abbiamo l'accordo con la provincia, il presidente Paolini e il dirigente Bartoli hanno detto sì, un annuncio un po' a sorpresa all'interno di un botte risposta al pubblico su Fano TV o forse no, se si pensa che sulle scuole l'amministrazione comunale di Pesero sta comunque puntando ormai da tempo. È boom di ammortizzatori sociali, sono a rischio 56 mila lavoratori, barbaresi della CGL e delle Marche, prorogare il blocco dei licenziamenti almeno fino ad ottobre, richieste 27 mila ore di solidarietà, meccaniche e calzaturiero sono i settori più in difficoltà. C'è un concorsone allo stadio di Ancona per 36 posti da assistente contabile a Palazzo Raffaello, quindi in regione, sono 5.250 le persone, i concorrenti, per soli 36 posti. E allora dove fare? Dove mettere tutte queste 5.250 persone che devono fare questo concorso? L'unico posto disponibile era lo stadio, quindi questo concorsone allo stadio di Ancona, si sta discutendo sulle cose logistiche, quindi il distanziamento, soprattutto anti-Covid, la distanza del protocollo parla di 2,25 metri, ma la regione chiede anzi di scendere ad un metro, anche perché se no 5.200 persone con tutto questo spazio attorno va a finire che non stanno nemmeno dentro lo stadio. Comunque questo è l'articolo che troverete sul Corriere Adriatico di oggi, la sede di questo concorso è allo stadio del Conero di Ancona. Mentre sulla pagina di Fano, sempre del Corriere, si parla del biodigestore, al via la ricerca di un partner. Il comune di Fano adesso invita Estra e Ferogna. Mascarin, l'assessore, risponde sì alle richieste di un incontro e il dirigente Celani mette in guardia sul rischio per Aset di una fusione. Mentre sotto gravi l'assenza del sindaco e l'invadenza del presidente, il presidente riferito al presidente della provincia, l'Udici contesta il gioco politico che prefigura la scelta fra tre possibilità. Mentre studenti progettono l'ambiente scolastico, a Pollone Outside, al lavoro per qualificare l'area giardino. E poi la storia di un cantautore fanese, Andres, ora lancia Nei Nei Nostri Ricordi, girato da Enri Secchiarola e San Francesco, da domani su tutte le piattaforme digitali. Un poderoso tempio invece della fortuna, le tracce affiorate dagli ultimi scavi, la soprintendente Mazza illustra le scoperte sotto Sant'Agostino, da studiare l'interazione con il teatro romano. Il sindaco insieme all'ex assessore Marchegiani annuncia visite guidate per l'estate. In due anni 54 milioni non spesi, un demerito per il Movimento 5 Stelle, criticata la Giunta Comunale per l'incapacità di erogare le risorse verso il territorio. Poi anche dal Carlino, a pagina 17, su questo importante ritrovamento, sì, sotto Sant'Agostino c'è il Tempio della Fortuna, i risultati della campagna di scavi finanziata dal Comune nell'area del teatro romano confermano questa ipotesi, ma gli studiosi si dividono. Secondo Paolo Clini si tratterebbe della Basilica di Vitruvio. Perfette coincidenze metriche, dice lui, ma vedremo chi ha ragione. Intanto sul digestore, Mascarin chiama la società che vuole farlo a barchi, chiesto un incontro alla Ferroni SRL, che dice, possibile anche una presenza maggioritaria del pubblico, Mascarin ribadisce, via le casacche. Ora, sulla pagina della Valle del Cesano, in realtà si parla di un progetto, un progetto che riguarda il welfare, che riguarda la socialità, che riguarda soprattutto le famiglie che hanno figli con disabilità. Il pensiero più grande per chi ha figli disabili, genitori che hanno figli disabili, il pensiero più grande per loro è che cosa ne sarà di questi ragazzi quando appunto i genitori non ci saranno più. E allora servono strutture, servono situazioni che possano anche già mentalmente predisporre, preparare questi ragazzi, tutti quanti, anche ad una futura separazione poi. E allora c'è questo progetto che viene presentato oggi sul giornale, Solimai, con divisione abitativa per i portatori di gravi disabilità, un progetto dell'ambito territoriale sociale 6, che anticipa l'integrazione appunto del dopo di noi. Ad accompagnare il dopo di noi è stata attivata una fase che si chiama durante noi, quindi ancora con la presenza dei genitori, che si svolgerà in un complesso nei pressi di Rosciano di Fano. C'è una struttura lì a Rosciano. All'interno di questa struttura verranno avviati i primi approcci finalizzati al graduale distacco tra familiari e figli disabili, che verranno ospitati durante il fine settimana e anche nei periodi estivi. Considero questa legge, dice l'assessore Tinti, una grande conquista di civiltà, perché permette ai soggetti gravemente disabili, rimasti senza i loro familiari, di avere qualcuno su cui contare. Andiamo avanti. Rossini avrà il suo piccolo, un po' come il piccolo di Milano, un gioiello. Si ristruttura la Sala della Repubblica. Entro un anno un teatro alternativo di 140 posti per ospitare eventi di danza, musica e arte varie. A Pesaro, dice Enzo Belloni e Daniele Vimini, a Pesaro un'opera avanguardista come in poche altre città del mondo. E queste sono due immagini di questo progetto legato al primo stralcio dei lavori del rifacimento della Sala della Repubblica all'interno del Teatro Rossini. Poi andiamo sulla pagina 18 invece del resto del carino perché si parla ancora della riattivazione della Fanurbino, di questa ferrovia ormai dismessa da molti decenni, che però sta facendo ancora discutere, trova ancora spazio sempre nei giornali. Riattivare la ferrovia sarebbe devastante. Lo dicono quelli del Partito Democratico, Circoli, PD di Colli al Metauro e Cartoceto che si appellano ai sindaci. dicono chiaramente che la soluzione migliore è la ciclovia del Metauro. Insomma, avvallando le idee dell'attuale giunta regionale si rischia di perdere i fondi. Poi sempre a Colli al Metauro, tavoli esterni, non si paga la tassa, il regalo del Comune alle attività commerciali per ripartire. Sempre invece dai quotidiani, questa volta da Senigallia, è morto Olindo Mazzanti, il re dei bagnini, così chiamato. Da lui andavano Francesco De Gregori, Brigitte Nielsen e anche Roberto Mancini. Aveva 91 anni, gestiva i bagni Marco e Virgilio, che a fine febbraio hanno compiuto un secolo di vita. Domani i funerali nella chiesa di Santa Maria Goretti. E questo è il ricordo che il resto del Carlino fa di questo storico bagnino. Poi invece, ancora dalla pagina di Senigallia, ci sono delle notizie di cronache. Cronaca, per esempio, sotto, fuggia a piedi per evitare i controlli, lascia nell'auto la sua compagna, scappa quando la paletta dei carabinieri gli si presenta davanti agli occhi, poi tenta la fuga a piedi, ma lascia in auto la compagna. Lunedì, poco dopo le 21, una pattuglia dei militari ha notato questa macchina in via Podesti, hanno intimato l'altra. L'uomo, un 45enne, residente a Montemarciano, non si è arreso, ha aperto lo sportello e ha tentato la fuga a piedi. In auto, però, ha lasciato la compagna che, insieme ai carabinieri, lo ha convinto a tornare indietro. Probabilmente non era molto lucido, ecco perché è scappato, forse aveva bevuto un po' troppo e in quel momento non ha reagito molto bene. Addetto alla raccolta dei rifiuti, invece è finito in ospedale perché è stato morso da un cane, sempre a Senigallia. È successo nella mattinata di sabato quando alcuni vicini hanno notato l'uomo che dopo essersi avvicinato alla casa ha iniziato a gridare perché aveva appena avuto un morso. Mentre Montesi, qui parliamo di politica, l'esponente dei Fratelli d'Italia è attaccato dal Partito Democratico, Montesi finito di nuovo nel mirino, dà la cena alla bandiera e il 25 aprile ha messo fuori dalla sua finestra una bandiera dell'Italia a lutto e ha disatteso anche il sindaco. L'esponente dei Fratelli d'Italia ha partecipato anche alla protesta, io apro, con tante critiche. Tutta cronaca che troverete appunto sui giornali, tutte le notizie che troverete sui giornali di questa mattina, la rassegna dunque finisce qui. Vi ricordo, per quanto riguarda la nostra programmazione, alle 9.10 di questa mattina l'udienza generale di Papa Francesco, come ogni mercoledì, alle 16.15 invece esplorare i confini del Circolo Bianchini con il titolo L'arte del Giappone e la pittura europea dell'Ottocento con Rodolfo Battistini, storico e critico d'arte. L'appuntamento alle 16.15, quindi la ginnastica andrà in onda alle 15.40, mentre alle 20.30, come sempre, abbiamo il nostro telegiornale con le ultime notizie e i fatti del giorno. Grazie per averci seguito, buona giornata a tutti. Grazie per aver guardato il video.